Grande successo di pubblico ieri sera al Teatro Margherita per Adelasi e Pupi di Zucchero. L'associazione Naponos ha portato in scena il mito di Adelasi alla principessa normanna del centro Sicilia, in chiave fiabbesca e la tradizione popolare siciliana dei pupi di zucchero. È stato un lavoro teatrale per bambini e adulti. Un'avventura romantica che si trasforma in viaggio alchemico attraverso simboli e archetipi della cultura siciliana e conduce bambini e ragazzi attraverso la storia delle origini medievali della città di Caltanissetta, mostrando l'importanza storico-culturale di alcuni prodotti dell'eccellenza dolciaria siciliana. Lo spettacolo è stato patrocinato dal comune di Caltanissetta e adesso verrà portato nelle scuole per un messaggio di cultura e di promozione della nostra città.